Nota sin dall'Ottocento, come dimostrano numerosi graffiti, una grande galleria sotterranea che occupa lo spazio tra il Tempio di Nettuno ed il Tempio noto come Basilica nel santuario meridionale di Pestum, ora è oggetto di uno studio sistematico. Per la prima volta si è proceduto a realizzare un rilievo dettagliato del monumento sotterraneo, la galleria accessibile attraverso quattro pozzi chiusi con delle grate, ha una lunghezza di quasi 50 metri ed è tuttora percorribile, seppure al momento solo da tecnici muniti di appositi dispositivi di sicurezza. La presenza di malta idraulica, che riveste interamente le pareti della struttura, lascia ipotizzare che la galleria servisse in antichità come una grande cisterna. A Pestum l'approvvigionamento delle acque rappresentava una criticità, spiega il direttore del parco archeologico Gabriel Zugtrigel. L'acqua del capo di fiume era malsana e i pozzi non risolvevano il problema perché l'acqua di falda tendeva a essere salmastra vista la vicinanza della città al mare. Così raccogliere l'acqua piovana che scorreva dai tetti dei due templi più grandi della città in una grande cisterna poteva essere una buona idea, anche se ancora mancano dati precisi sulla cronologia della struttura. Come sottolinea il funzionario archeologico del parco, Francesco Scelza, la posizione della cisterna all'interno del grande santuario urbano della città antica non è casuale. Nei riti antichi l'acqua giocava un ruolo fondamentale, anche se spesso non è facile distinguerne un uso culturale da un uso corrente. La cisterna ipogeica del santuario meridionale di Pestum era nota già dai primissimi scavi dell'inizio del novecento ma finora è stata esplorata solo in parte. Intanto si sta pensando al futuro, sarebbe bellissimo poter far visitare un giorno questa Pestum sotterranea a tutti, dichiara il direttore, ovviamente solo dopo un restauro attento della struttura e con tutte le misure di sicurezza. È un monumento che come altre illustra come i templi fossero parte di una società, di un'economia e di una vita quotidiana nella quale la gestione delle acque rivestiva un ruolo centrale, dalla bonifica della piana da parte dei coloni greci fino all'impaludamento nell'alto medioevo. La storia di Poseidonia, come abbiamo raccontato in una mostra recente su archeologie e cambiamenti climatici, è anche la storia del rapporto tra la comunità e l'acqua, il sopralluogo della cisterna tra i due templi in data 28 ottobre al quale ha partecipato anche il direttore, oltre a importanti dettagli sulla costruzione del monumento antico, ha rivelato anche testimonianze molto più recenti, graffiti che i viaggiatori dell'Otto e del Novecento hanno lasciato sulle pareti della galleria sotterranea, a volte datandoli. Il più antico finora riscontrato risale al 1855, il più recente al 1965.